In area di Bala, Rabiocchi, Lira, Chiellini, poi non ci arriva il pallone, lo prende Offredi che è trascorso. È partito Danilo come un treno, l'ha visto Berandeschi, Danilo malcross, quasi autogol ma salvataggio da parte di Malomo, un calcio d'angolo. C'era pronto Di Bala per il tapito, bella azione. Abbiamo visto il meglio di Danilo. Sposta e prova a fare come a Benevento due anni fa, non riesce, c'è la parata di Offredi. Di Bala, prova a calciare Di Bala, Splendo, Fredi, calcio d'angolo. Gran sinistra giro, gran risposta, l'età di Carrara rimane. Mira le piani, c'è il cross verso Chiellini che stacca di testa. Non si torna da Berandeschi, ancora col tunnel del favore. Arriva in fondo in cempe, la sua Chiellini a Berandeschi, dentro da Di Bala, posizione regolare. Che finta di Di Bala, che giocata. E il cucchiaio! Mamma mia! Che meraviglia! Mamma mia! Che meraviglia! Paolo Di Bala, 1-0, ce l'ha scritto sulla maglia e lo fa presente. Eh sì. Non so se la posizione ovviamente, perché poi stavano molto quelli della Triestina, con l'assistente abruzzese. Ma anche Scesni ha la faccia di uno che dice, va bene, è un amichevole. Ma accidenti, che roba sei! Ha ricordato la sua caratura con questo gol. Ha detto molto chiaramente, questa è la mia squadra, guardate. È regolare, è regolarissimo. Grande contro uno. Doppio passo come un treno, forte e teso in mezzo. Palla fuori. Ma quando fa quel tipo di lavoro, non la prendono mai. Non lo prendono mai. E qui chiede una dichiarazione a Douglas Costa, che da come la chiede mi viene da credo. Qui si fanno, si lavora, si fa allenamento. Il talento di Di Bala non si compra al supermercato. Tutta volta al volo per Douglas Costa, che si coordina, non so come. E per poco non fa 2-0. Nessuno poteva coordinazione. Il corpo da una parte e la gamba dall'altra. Spazio per Chedira per metterla giù e calciare verso la porta. Infatti ci pensa, c'è deviazione! Ma c'è anche Offredi, prontissimo. Il calcio d'angolo. D'angolo. Douglas Costa. Sposta e cross a forte, teso alla sua maniera. Mal visto e servito. Corto per Danilo. Di nuovo Chedira. Ancora Bernadeschi. Può mettere il cross per Douglas Costa. Quasi chiudendo tutta la panchina, praticamente. Arriva il cross, era di rigore. Chiellini tocca poi Coletti. Mezza rovina. Occhio ai tagli di Mensah. Di Costantino, di Ferretti. Palla dentro per Mensah. A vuoto lui, a vuoto alle parte Di Bala. E Offredi glielo respinge. E poi Alessandro lo mette fallo in attacco. Sta facendo una partita super Offredi. Devo dire che ha riscattato quella che è stata, secondo me, il primo passaggio. Prova a riprendersela. Se la riprende, va giù. Calcio di rigore. Da una cosa casuale è successo il calcio di rigore. Da un controllo sbagliato. La grande giocata di Douglas Costa. Strano. Controllo, sì. Oggi proprio non lo stiamo vedendo per niente. Poi, vista così, a velocità normale, mi è sembrato abbassato. Un attimo a bordo campo da Giovanni Guardalama. Prima seguiamo l'azione dell'11 triestino. Doppio passo alla Douglas Costa. Su Danilo che ti avviene sbilanciato illegalmente. Abbastanza esperto. Entra in area di rigore. Taglio dentro di Di Bala che scivola. E qui c'entra. Porta avanti ancora il pallone. C'è Douglas largo. Visto e servita. Arriva anche Chedira. Douglas la mente interessante ancora. Di Ferretti per Mensah. Uno contro uno con Quadrado che ha appena entrato. Mensah prova a saltarlo. Salta in area di rigore. È proprio in questo momento. Aspetta Joe perché ha partito Bernandeschi come un trend in area di rigore. Bernandeschi ancora può metterla al centro. C'è Offredi. Assolutamente. Palla nell'area di rigore allontanata da Adrian Rabiot. Prova al volo. Solo. Non calcia Higuain. Ha fatto tutto molto bene. Ma Bentancur con il sinistro va alto. Buona azione della Juve. Gran palla di Bentancur. Sì stavo dicendo che con il Chelsea ha giocato 4-4-2. In certe partite. L'abbiamo appena visto. Ha bloccato una ripartenza tra la Triestina. Rente a recuperare. A pensare di calciare. Viene buonissimo. Ma l'esecuzione era complicata e finisce fuori. Juan Quadrado. Prova a passare. Gli dà una mano Ramsey che crossa. Offredi c'è. In area deviato. Attenzione Ferretti. Prova a colpire. La palla rimane lì. Ancora Ferretti. Tocca all'indietro. Su vicino il risontale per Ebrecian. Stava partendo Ramsey. Ebrecian si mette in proprio. Va da solo. Poi esagera. Assolutamente sì. Mandujic brutta sponda dentro. Passaggio filtrante poi di Steff. Sbagliato. L'idea troppo geniale. Prova a lavorare il pallone. Lo mette giù. Poi va dentro proprio da Matuidi. Palla filtrante. È il giocatore dell'Ars. Dal quadrato al centro di Guain. Al centro Mangiovicci. Guain colpetto. Lascia lì. Dentro da Coletti. Lanci davanti per far correre Costantino. Cesni con una finta. Si accontenta. Vediamo. Faccio d'angolo verso De Ligt. Che come alza. Torna da Ebrecian. Iguain. Vomodare dentro per Ramsey. L'ha visto. 1-2. Che bella cosa. Di Guain e Ramsey. Per Ebrecian. Area di rigore. Ancora Ebrecian. Aspetta un rinforzo. Sceglie Guain. Chiude.